C'è un altro grande evento nel programma dell'estate fanese e ancora una volta i protagonisti sono gli artisti del mondo della musica. Giovedì 28 luglio è atteso nella città della fortuna Marco Masini. Il cantautore toscano sarà l'ospite d'eccezione alla BCC Arena durante il concerto del collega fanese Luca Vagnini, che presenterà il suo ultimo disco uscito nel mese di giugno. La serata avrà inizio alle ore 21 con l'apertura dei cancelli alle 20 e con l'opening show degli It Italy e proseguirà con musica, spettacolo, molti ospiti e sorprese. Masini da tempo amico e collega di Luca verrà a Fano per partecipare all'evento intitolato L'Invisibile Live Show, in cui presenterà alcuni dei brani del suo repertorio storico. Sì, Marco ci siamo conosciuti in occasione della lavorazione del primo disco a Firenze e per questo evento grande ho pensato proprio di richiamare nomi che ho avuto la fortuna e la possibilità di conoscere, con cui c'è stata anche delle collaborazioni nel primo disco così li ho richiamati e Marco nonostante è vincolato da problematiche contrattuali per quest'estate ha deciso di venire, quindi verrà ospite e canterà le sue canzoni ed è un evento unico ed eccezionale perché quest'estate non lo vedremo da nessun'altra parte oltre che all'Arena BCC il 28 luglio insieme a me. Il costo del biglietto è di 10 euro più 1 euro per i diritti di prevendita e composto fisso non numerato, può essere acquistato alla cooperativa Tre Ponti, al Teatro della Fortuna e in tutti i punti vendita convenzionati con il circuito Live Ticket. Ho voluto mettere un prezzo basso perché questo evento, questo grande evento sia accessibile veramente a tutti. L'evento che è stato realizzato in collaborazione con Exit Music Eventi e la Proloco Fanon Fortuna è patrocinata dal Comune di Fano. Una città come la nostra deve fare di tutto per favorire che i talenti emergenti, che sono giovani ovviamente, quindi tutte le nostre politiche sono rivolte dove possiamo alla formazione di un pubblico del futuro, ma anche star vicino a coloro che decidono di fare i protagonisti. Faremo di tutto per promuovere questo evento e anche per accompagnare questo cantautore nostro che è animato da un sentimento nobile, quello di consegnare le sue emozioni alla gente, al pubblico, in un mondo come abbiamo ricordato che non è sempre semplice, quello dei discografici, dove tante sono le aspettative. Luca ha un atteggiamento molto maturo, molto profondo e quindi noi siamo vicini, come ha detto anche il sindaco, a questo nostro giovane che credo fa la strada. Grazie a tutti.